Dalla terrazza aperta sul Val d'Arno, vediamo di incontrare Paolo Tizianini per parlare di una trippa un po' particolare, Paolo. Sì, una trippa che, guarda, è stata ritrovata negli archivi dei monaci camaldolesi. Trippa allo zafferano e agrumi, quindi tu sai che loro coltivavano lo zafferano, sia a Laverna che a Camaldoli. Un piatto poverissimo come era la trippa, sposato alla spezia più nobile di allora, lo zafferano, diventava un cibo da utilizzare in occasioni di particolare prestigio. Esatto, provare per chiedere perché non lo sai veramente bene. Come ti comincia questa ricetta? Questa ricetta comincia con la cipolla bianca, che ha questa particolarità di non essere aggressiva come quella rossa. Viene fatto un battuto abbastanza grossolano e si mette a soffriggere, io vedi mi sono già avviato, eccola lì. Ora intanto vi faccio vedere il battuto come deve essere per rendersene un'idea. Ecco, questo battuto deve essere così perché poi si deve ritrovare e risentire, ok? Quindi questa è la cipolla. La cipolla si può stufare o con l'olio o con il burro, a scelta. Tu hai scelto in questo caso, deduco, il burro come preferenza per territorialità. Per territorialità anche, sì. Una volta che è stufata la cipolla e ha questo bel colore bronzo, si aggiunge il brodo vegetale o di carne, a seconda di come tu volevi. Ecco, ti raccontami, visto che hai rapinato questa ricetta all'esperienza anche dei monaci, in questo caso l'oro era più legato alle verdure, forse la carne era per il cibo della festa, semmai entrava lì. Sì, sì, la carne, ma comunque non pensare, non si trattavano tanto male, perché c'erano due tipi di rifezione, c'era il refettorio, quello per i pellegrini e dopo c'era il refettorio per i monaci. Io però allora andrei anche sulle famiglie contadine qua dell'aria, nel senso questo comunque era un cibo che diventava interessante con questa trippa, ne hai mangiato tanta, eh? Sì, no, no, la trippa poi era un piatto... Ma mamma mia, guarda queste verdure! Allora, io metto la trippa. Vai. In questa cipolla che ha stufato. Ok? Ecco, ti ragione, la metto un pochino. Poi si mette il brodo che ha o vegetale o di carne comunque e deve servire perché la trippa, come tu sai, a questo punto è già cotta. Certo. Perché è stata cotta, è stata lavata, è stata... E poi il passaggio io non l'abbiamo mostrato, ma è chiaro che la trippa ha subito il... C'è la cuffia, c'è la croce, insomma, poi l'intenditore di trippa... Cosa consigli di quale parte della trippa per questo piatto? Per la croce. Per la croce, eh? Sì, la croce. E pensare, per me la croce è un po' troppo... Beh, deve essere... La cuffia, secondo me, è buona insalata, cruda. Io ho il nonno che faceva la... La faccia insalata cruda era... La cuffia insalata... Eh sì, eh sì, vai. Allora, si fa prendere il bollore, si fa prendere il bollore e si fa bollire per circa mezz'ora da quando riprende il bollore della storia. E poi ci viene aggiunto, questo è lo zafferano, è stato pestato, ok? Sì. E vedrai che, insomma, come per incanto, tutto quello che è qui dentro diventa oro. E infatti lo stai... Vedi? È la caratteristica dello zafferano, che riesce a colorare, perché poi alla fine colorava oltre che dare il gusto, il piatto. Io credo che si mangi molto con l'occhio anche, no? L'occhio, sì, l'occhio è fondamentale. Quindi si sala e si pepa generosamente, insomma, generosamente, giusto, perché poi si, prima di rimetterla in tavola, si riaggiusta nuovamente. Quindi sala e pepe, quanto basta, e si porta a cottura. La trippa cuoce con lo zafferano, si aggiunge brodo vegetale. Il passaggio quanto dura in totale? Il passaggio 40 minuti, 50 minuti si riesce a fare il piatto, avendo già chiaramente la trippa. E qua abbiamo il piatto, poi il passaggio del piatto che è già finito, che tu lo vai a guarnire con che cosa, Paolo? Con la nefitella. Vai. Qual è il motivo della scelta di questo tipo di erba aromatica? Perché gli dà un contrasto abbastanza buono. C'è un altro passaggio fondamentale. Circa un quarto d'ora dalla fine della cottura, si prende la scorza dell'arancio. Sì. Ok. La scorza di un po' di limone. Ah, eccoli. Ecco, e dopodiché si prende l'arancio, si taglia a metà e si spreme. Oh, allora sto capendo che il gusto che viene fuori è una condizione fra questo zafferano, la presenza di questi agrumi, perché poi sono il limone che... Sì, è il limone che è arancio, e dopo questo arancio strizzato che gli dà una parte acida, ma non troppo, che compensa un po', diciamo, il grasso della trippa. Provare per credere. Questo è un grande piatto, un piatto riscoperto, ritrovato, che fa la differenza. Grazie. 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 Grazie.